Allora mister, avevi detto se vinco non mi esalto, se perdo non mi abbatto, se pareggi? Sono arrabbiato, sono arrabbiato perché mi giravano le scatole perché perzecchinato, che non ci voleva, un infortunio che non ci voleva. Non riuscivano a mettergli dentro la spalla, adesso l'hanno portato all'ospedale e sarà comunque un infortunio che ci costerà molto, ci peserà molto per le caratteristiche di questo ragazzo. A caso l'hai messo dentro e sull'azione del rigore ci aveva messo lo zampino, con l'assist su forte e poi il fallo dei difensori del Piacenza. Sì, è un ragazzo che ho voluto fortemente perché secondo me ha delle caratteristiche che al nostro modo di giocare servono in certi momenti del campionato, in certi momenti di alcune partite. Questa era perfetta, 20 minuti per dare più forza lì davanti, con Fanucchi che doveva essere bravo a giocare da finto centrocampista per appoggiarsi poi sulle punte. I due esterni offensivi per cercare di buttare le palle in mezzo, due buoni giocatori che hanno due buoni piedi come non l'è specie sugli esterni. Ho fatto tutto quello che pensavo fosse giusto per cercare di scardinare una difesa che tutto sommato si è comportata bene perché sono sempre stati molto attenti, molto cattivi. Sono più arrabbiato per l'infortunio di Zecchinato che per il risultato.